Sì, il suo passato, quando morirà vuol sapere, da maga Iris, se sto piano devi piantare. Tesoro, perché piangi? Non me lo ricordo! E anche se sbaglia Iris sullo slogan sticato. Ah! Così mi andava, ho detto, non ci piango! Ho molta paura, ho molta paura, e se l'è andata mia luce! Lei vuole lavoro? No, 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 dica, dica. Se non esco rientro. No, no. Se il tuo credito è esaurito di una ricarica, ti devi rinno. Perché rinno? Devi essere munito. Scusa. Non riesco a trovare servizi pubblicitari. Scusa. 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 Perché rinno? Mi prendiamo un cuore? Non mi ricordo la parte. No. Sto a fan casino da solo. Non capisco. No, non capisci tu. No, aveva capito una sega. Aaaaaaah! Mi si è staccato il microfono. Cazzo sta lì. Non lo so. Eh. Scusa. 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 Io non comprerei mai un libro così grosso. Perché ho paura di arrivare alla fine della storia e di ricordarmi già all'inizio. E rifacciamola. Campo, stamattina ci sono andata. È meglio per la rima, no? No. No? No, fa schifo. Stamattina uno cliente mi avrebbe chiesto, mi avrebbe detto da capo. Vai. Mi sarebbe manpesata ladra. Giacca e cravatta. È proprio così che l'ho visto l'ultima volta. Che cogliona. Ma dimmi un po', ma quanti cavalli c'è? Cento. Settanta. Ah. Cioè, settanta. E nel sapei che le voci girano più veloci e come atto per casco alle noci? Ma nel sapevo, ma adesso è come il dici? Perché ho paura che quando arrivo alla fine della storia mi sono già dimenticata, porca puttana. Sono bello, vero? Sì, sì. Sì. Anche tu. Grazie. Ho paura di arrivare alla fine della storia e di... della storia e non ricordarmi inizio. Che ti prende? Or di arrivare alla fine della storia e non ricordarmi inizio. Vai. E' uscita questo colpo. Ah, e dimmi un po', che macchina è? È una Fiat Punto. E dimmi un po', come te ce trovi? Perché ce la compra la macchina pure per la mia figlia. Insomma... Per la figlia? Lei ce l'ha compiuto? Sì. Sì. Allora ci vediamo fra un'ora a casa sua. E se puoi tenere la serra il mio bigliettino? Solo se io potrei lasciare il mio. Ma come... Ma porca puttana. Mi hai riso? Ma no. Paolino, è facile. 30 di contà novembre. Con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce ne uno. Tutti gli altri ne ha 21. No, 31. Vai da capo. Ma i mortacci, ma perché non se ne stanno al paese loro? E' all'incontrata. Vabbè, dove li hai messo? Vabbè. Allora ci vediamo fra un'ora a casa sua. Oddio! Vabbè. Vabbè.